Buona visione da Strada del Vino e dei Sapori del Trentino Buongiorno a voi, mi presento sono Lucia Letrari, sono la quarta generazione della famiglia che si occupa di vitienologia in Trentino, ci troviamo a Rovereto, in questo momento siamo nella nostra azienda, nella nostra sede dove produciamo i nostri Trentodoc e i vini classici. Seguitemi e vi aprirò le porte del nostro mondo, venite con me! Eccoci nella cantina di affinamento e le catastre dei nostri Trentodoc. Il Trentino è un territorio ricco di mille sfumature, noi ci troviamo appunto in Vallagrina, un territorio che ci consente la produzione di vini base per i Trentodoc, quindi parliamo di Chardonnay Pino Nero o Uva Baccarossa che possono essere gli internazionali Cabernet Merlot o, parlando di territorio, il Marzemino e il Taronbego. Io sono Margherita, la figlia di Lucia e la nipote di Leonello, sono cresciuta in questo ambiente e devo dire che mi piace davvero davvero tanto e spero di essere la quinta generazione e spero che anche voi possiate amare questo mondo come lo amo io. Io vi aspetto per poter degustare assieme un calice in compagnia. Arrivederci da Strada del Vino e dei Sapori del Trentino.